Siamo di nuovo in emergenza. Pozzecco, coach della Dinamo, commenta l'inattesa sconfitta nell'anticipo di sabato contro Varese, ultima in classifica. 89-74 il punteggio finale, in una partita iniziata brillantemente da Biancoblu ma poi persa per strada, soprattutto nell'ultima frazione, con il colpo di grazia inferto dal trio Douglas-Russier-Skola a sigillare il successo dei Lombardi e interrompere la striscia di otto vittorie di fila degli ospiti. A giustificare la sconfitta dei sassaresi almeno due elementi, l'assenza pesante di Benjus e Trajer e la stanchezza mostrata proprio nel finale. Sul primo fattore si sofferma i Pozz, grande ex del match. Senza di loro dobbiamo trovare soluzioni offensive e difensive diverse. E mancato soprattutto, aggiungiamo noi, l'apporto delle ali nel tiro da tre, costringendo i sardi a lanciarsi all'arrembaggio in un'area a rischio assembramento e il surplus difensivo ottenuto nelle ultime prove. Eppure non è tutto da buttare, a parte i senatori Spisso e Bilan, che seppur spremuti, si sono fatti trovare pronti, va segnalato l'ambientamento progressivo di Ethan Hupp. E non solo da vice del lungo croato, ma anche in coppia con lui, una variante del roster dettata dalla panchina corta, ma che, secondo il mister, ci sarà utile anche quando rientreranno gli assenti. Ma è la spia accesa nella riserva? A destare preoccupazione, il tour de force del banco tra regular season e coppe non ammette pause. Sassaresi infatti già in campo domani, in trasferta, con i cechi del Limburg per la seconda di Champions. Un eventuale sconfitta, dopo il passo falso di martedì scorso con Saragozza, potrebbe compromettere il cammino nel gruppo L.